Il negozio auto e treni gestito da Roberto è aperto dal 2005. Si occupa di modellismo e giocattoli. Per quanto riguarda il modellismo per i treni è rivenditore esclusivo di prestigiosi marchi come Marklin, Rivarossi e Lima ed è punto assistenza, montaggio, consulenze e costruzione plastici. Per le auto e moto i marchi sono Chioscio, Burago, XO, Minichamps, BBR e Sunstar. Inoltre ha un settore di aerei, elicotteri e macchine a radiocomando e a benzina. Corner anche di carroarmati e soldatini con kit di montaggio. Per i giocattoli spaziano da bambina con bambole, carrozzine, passeggini e accessori. Cucine per tutti i gusti con rilievo del marchio famosa. Da bambino sempre novità sui personaggi o giochi del momento. Garage auto, piste trenini Thomas, pistole Nerf e altre. Camion, betoniere e altro ancora di Bruder. Auto a pedali e a batteria. Inoltre vado assortimento di novità. Lego, Playmobil, Dal Negro, Seggi, Trudi, Nici, Chicco, Fisher, Pride, giochi preziosi, Jig, giocheria, Mattel, giochi in scatola e puzzle e tanto tanto altro ancora. Auto e treni, modellismo e gioco si trova in via Dante 20 a Padova. Con telefono e fax 049 877 4197.